Guarda che bello Marcella! Ma che meraviglia! Sì Elena, siamo nel pieno dell'inverno. L'inverno è una stagione meravigliosa. L'inverno è il momento in cui la natura riposa, sembra che nulla accada e invece sotto la terra, con tutto quello che cade, guarda anche queste foglie, si sta trasformando in quello che sarà la terra da cui crescerà la vita a primavera. Quindi l'inverno è il momento del raccoglimento in cui si vedono proprio le strutture come sono fatte. Guarda queste antenne che vanno verso il cielo che poi quando si copriranno di foglie noi non vedremo cosa c'è sotto. Quindi è il momento in cui vediamo proprio l'essenza delle cose. Così come vediamo l'essenza delle cose fuori, vediamo l'essenza delle cose dentro e ci è più facile cogliere quali sono per noi le cose più importanti, quali i semi che vogliamo coltivare per la primavera che verrà.